Quanto è importante per Valle Castellana ospitare la Sagra della Castagna? Fondamentale, è una manifestazione che è una revocazione della storia di Valle Castellana e di tutti i suoi prodotti tipici locali. Tutti gli attori e coloro che hanno un esercizio commerciale si prodicano per organizzare questo importantissimo evento dove promuoviamo il prodotto che è simbolo di Valle Castellana, cioè il castagno e i suoi derivati. Tutti i prodotti trasformati con i quali riusciamo a creare la nostra identità al di fuori del territorio comunale. Il 28 e il 29 ottobre all'Ofara di Valle Castellana si terrà la 38esima edizione della Festa della Castagna. Qual è il programma? Allora, si inizierà sabato alle ore 12 con l'apertura degli stand e delle cucine. Gli stand ovviamente proporranno prodotti enogastronomici locali e soprattutto tutti i piatti sono preparati con il vero marrone di Valle Castellana. La giornata di sabato poi sarà lietata con visita ai castagneti del paesino di Leofara di Valle Castellana e con intrattenimenti musicali da parte di un gruppo di musica popolare. Domenica si inizia alle ore 9 con l'apertura degli stand e i visatori durante tutta la giornata saranno lietati da visite ai castagneti, ovviamente dai piatti offerti dall'Associazione Fere realizzati grazie ai prodotti locali e con il marrone di Valle Castellana. Oltre alle castagne cosa si può assaggiare? Sono presenti un po' tutti i prodotti del nostro territorio, dei Monti della Laga, quindi si spazia dai semplici frutti al miele, marmellate, formaggi, salumi, tutti prodotti da produttori diciamo locali della zona o comunque afferenti al territorio dei Monti della Laga. Come vi siete organizzati per accogliere oltre 2000 persone? Aspettiamo diversi visitatori e turisti per queste due giornate. Il consiglio che diamo è di raggiungere Leofara passando dalla strada stata l'81 e poi proseguire in direzione Guazzano Macchia da Sole. Una volta arrivati nei pressi dell'ostello ci sarà un servizio di bus navetta che garantirà l'ordine dei visitatori per raggiungere il paese dove vi aspetterà la festa della castagna. Grazie. 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 Grazie.